3, 4, 3, 2, 1... Il concertone di Capodanno in Piazza Plebiscito ha attirato in centro città napoletani e turisti che hanno salutato l'arrivo del 2020 assistendo allo show organizzato dal Comune e che ha visto come protagonisti sul palco Stefano Bollani, omaggiato della cittadinanza onoraria di Napoli, Daniele Silvestri e Livio Cori, oltre ad altri cantanti partenopei. Dopo il brindisi, la nottata è proseguita sul lungomare con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a Cassel dell'Ovo e a seguire i quattro show su altrettanti palchi allestiti in diversi punti del lungomare. Migliaia e migliaia di persone, di napoletani, di napoletane, di turisti attraversano questa piazza attraversano momenti bellissimi con tanti ragazzi della nostra città che hanno cantato, artisti emergenti che in questa piazza hanno trovato un loro momento, un primo momento di esibizione ma anche tanti nomi nazionali. Stefano Bollani con un tributo meraviglioso a Carosone nel centenario della sua nascita e adesso in questo momento l'esibizione di Daniele Silvestri. Una serata veramente meravigliosa, buon 2020 a tutte e tutte. Un grande successo, benissimo grazie al prebiscito, bene i fuochi quelli autorizzati sul lungomare, benissimo la discoteca, tanta gente, i servizi hanno retto, hanno funzionato, è una grande prova di maturità della città, sono soddisfatti.